Ok, ce l'hai? Adesso, le carte che hai in mano, prendi due carte e passi sotto, ok? Una volta, una volta, poi butti giù la terza, e poi sotto, giù e sotto, giù e sotto, giù, il problema è che lo fai in maniera regolare, perché le stiamo mescolando in un certo senso, no? Ok, questo è importante, io sono qua e tu sei là, questo è importante che non sono... e rimanere con l'ultima carta che la butti sotto, giusto? Certo. Ok, ok, adesso buttalo sopra, tieni il mazzetto per vedere bene quello che fa, è importante. Ora, lentamente, fermati nelle prime carte, vai. Non ho capito se hai fatto scusa. Adesso prendi le carte e ti muovi sotto lentamente e ti fermi dove tu, nelle prime. Mi fermo quando voglio? Sì, dove vuoi? Ok, chi vuoi? Ok, adesso guarda la carta sotto, guardala, fatto? Ok. Ok, mescola tutto. Sì. Ok, io non posso sapere perché ti sei fermato dove tu, hai mescolato le carte, sono qui e tu sei lì, sei d'accordo? Sincero. Prendi la carta tua in mano e tiella qua. Fatto? Sì. Rossa. Il 2 di quadri stai pensando? Il 2 di quadri, costantemente il 2 di quadri. Il 2 di quadri stai pensando? Ah, benissimo. Ce l'ho fatta. Carissimo, metto il video e ci tengo un tuo commento. Ciao. 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 Ciao.